Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oggi esiste un mercato di operatori, c'è un cambiamento culturale in grado di affrontare il restructuring, diciamo industriale e quindi il mondo di utipi allargato. Prima non c'era questo mercato e non c'era questo mercato per un semplice motivo perché mancavano dei prodotti finanziari, delle piattaforme, delle idee, soprattutto dei team con dei manager che andassero a proporre qualcosa di nuovo. Prima qualunque tipo di operazione che si provava ad approcciare sul mercato del restructuring veniva affrontata con un'ottica di private equity stile anglosassone di tipo tradizionale. Metto i soldi, il mio valore è punto uno stralciare le banche in modo rilevante, quindi il mio ritorno è di tipo finanziario. Poi dopo vado a ragionare anche sul ritorno di tipo industriale. Cinque anni fa quando noi per esempio abbiamo lanciato la prima idea di piattaforma multicomparto abbiamo invertito la categoria mentale di ragionamento e cioè il prodotto doveva consentire un allineamento di interessi tra l'investitore di nuova finanza, le banche e soprattutto l'approccio in un'unica parola doveva essere per rilanciare l'azienda e recuperare il valore del credito la devo necessariamente risanare industrialmente e quindi bisogna mettere dei soldi e quindi soprattutto, questa è la cosa più importante, avere la capacità di creare discontinuità manageriale e spesso anche nell'azionariato. Dopo cinque anni come sapete sono nate tante piattaforme con stili diversi di approccio al mercato, secondo me oggi c'è anche tanta confusione, andrebbe un attimo ridefinito che cosa è un servicer, che cosa è un asset manager eccetera. Però diciamo che oggi comunque c'è un mercato e ci sono soprattutto le banche che hanno fatto un ulteriore salto culturale dove sono pronti a ragionare con dei partner a diverso titolo, quindi hanno una sorta di pacchetto di prodotti che possono decidere se attivare o meno o se gestirlo in house. Credo che ci siano dei temi molto diversi a seconda della tipologia di UTP, come sempre si riunisce sotto un'unica sigla un mondo che è molto variegato e diverso. Ognuno di noi, magari noi siamo un po' servi, essere anche un po' investitore come sapete, si occupa di UTP da diversi anni, ma molto a livello di single name. Ognuno di noi ha fatto diverse operazioni immobiliari, ne ricordo molte nella nostra esperienza, ma pone la logica di poter avere una quantità di tempo da dedicare al credito che è anche proporzionata alla dimensione dell'operazione. Se io faccio un'operazione da 20-30 milioni potrò dedicare una quantità di risorse a questa posizione che è di un certo tipo. Il tema, credo che la sfida, la cosa veramente interessante è la gestione degli UTP, invece small ticket, diciamo sotto i 500 mila euro, forse sotto il milione, dove serve una logica di processo che possa gestirli in forma quantitativa. Allora, io ho ascoltato con molto interesse il tuo intervento, però non ci sarà la possibilità rispetto a questi crediti di dedicare risorse, intelligenze e tempo sufficiente per poter valutare dei piani di risanamento, degli aumenti di capitale, dei cambi nel management. Non c'è questa possibilità, diventerebbe una questione diseconomica, perché il tempo di assorbimento della gestione di un UTP fatto in quel modo è molto superiore al tempo della gestione di un NPL. Allora, la sfida di ognuno di noi, ognuno sta procedendo secondo me un po' anche con strade singole, è quella di costruire delle piattaforme che siano in grado di applicare attraverso un po' l'intelligenza artificiale, un po' il data management, un po' i collegamenti con la PSD2, e tutte queste cose che noi abbiamo sempre sentito, di cui abbiamo sempre sentito parlare, sostanzialmente tre cose, a mio parere. La diagnostica, che negli UTP quantitativi è fondamentale, la strategia di recupero, che deve essere standardizzata. Non possiamo pensare di avere 50 asset manager che gestiscono queste cose, o 100 che gestiscono queste cose, diciamo, con... Quindi ci vogliono delle guidelines, e attaccate alle guidelines, ci vogliono in termini, diciamo, poi di esecuzione della pratica, anche delle patruzioni, delle previsioni contrattuali. Cioè, bisogna muoversi all'interno di percorsi che sono, in qualche modo, segnati con tempi e metodi. Questa è un po' sempre stata un po' anche la caratteristica di Uber. Cosa che voglio dire molto veloce, è che non dimentichiamoci che in questo arco temporale, di questo delirio, diciamo, del Covid, sono stati erogati circa, mal contati, 250 miliardi di finanziamenti con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, attraverso il Medio Credito Centrale, a 2 milioni e 500 mila aziende. Diciamo che hanno erogato, come media, 11 volte per anno quello che avevano erogato nei tempi pre-Covid. Quindi è ovvio che si è trattato, hanno capito tutti, che si è trattato di una manovra di politica quasi monetaria, che è servita per sostenere, diciamo, per sostenere le imprese. Però questi finanziamenti hanno una durata relativamente breve, perché sono generalmente a 60 mesi. C'è stato un bel derisking da parte delle banche, sono state, diciamo, molto veloci a cogliere, diciamo, questa opportunità. E tant'è che, se voi date vedere, a livello consolidato, un dato molto interessante, gli impieghi cumulativi sono aumentati, gli RWA cumulativi sono scesi. Quindi lo Stato, un po' di rischio è stato trasferito, diciamo, dal sistema bancario, forse non il migliore, dal sistema bancario allo Stato. Anche questi saranno dei signori, questi 2 milioni e mezzo, saranno delle persone a cui bisogna fare un attimo di analisi. E dubito che riusciremo a farlo senza l'intelligenza artificiale, senza, diciamo, il processo. L'esternalizzazione, cioè fare una partnership, come per esempio ha fatto Intesa con Prelios, non significa che poi il credito non ti rimane nel bilancio. Quindi quando c'è crisi, i flussi di UTP sono talmente tanti e imponenti che il deflusso, cioè il back to bonus, non è altrettanto veloce, anche se ti avvali dell'operatore più specializzato al mondo e più capace, no? Quindi inevitabilmente poi per poter tenere il livello di NPL basso devi poter cedere. E cedere l'UTP è una cosa complicatissima. E' veramente una razza particolare l'UTP, no? Non solo nella gestione quotidiana che può equiparare l'UTP, cioè può dividere l'UTP in tante asset class, perché l'UTP è poi nell'ambito della specie ha una serie di subgeneri, no? Quindi trovi l'UTP che è un'iso sofferenza e quindi la logica è quella della collection, trovi il grande UTP che devi gestire in una logica di merger acquisition, la mezza tacca dove devi renderti conto se fare una forbearance senza nuova finanza, perché ovviamente poi la banca che deve tenere il limite di NPL basso deve utilizzare con estrema parsimonia la nuova finanza. E ecco il motivo per il quale strutture come quelle portate avanti da idea hanno poi nel tempo acquisito successo. Il mondo degli UTP e anche del mercato degli UTP ha avuto un'evoluzione che ha avuto una certa accelerata fino al 2019, poi un momento, un po' di stasi, adesso vediamo se riparte. Mi spiego meglio, il discorso dell'eccezione dei single name, eventualmente anche in pacchetti, ma con quell'ottica che descriveva anche adesso Lucia, chi in maniera più strutturata come ha fatto il Monte, chi in maniera magari meno strutturata, però un qualche cosa che comunque c'è da tempo, chiaramente poi il numero degli operatori è andato aumentando, però il concetto di acquistare dei crediti con un'ottica poi di andare a gestire la posizione, il sottostante, quindi l'azienda, è qualcosa nel quale appunto i private eco, degli investitori specializzati, erano già presenti chiaramente l'esigenza di aumentare i numeri pian piano, come si è fatta vedere. La sfida che io vedo adesso, che è partita un po' nel 2019, era quella di fare proprio le operazioni grandi, c'era prima Lucia l'operazione di intesa con Prelios. Tra l'altro operazioni che vendono combinazione di cessione di portafogli, quindi del leverage delle banche e partnership per la gestione. Allora, secondo me questo tipo di operazioni continueranno a esserci e ci saranno sempre di più, perché le banche da una parte dovranno in qualche modo gestire, poi quanto sarà alta l'ondata del nuovo credito, eccetera, il deteriorato sarà da vedere, ma comunque ci sarà un cambiamento, un aumento. E le banche probabilmente faranno un po' fatica, anche perché poi ci saranno anche concentrazioni per settori particolarmente toccati, quindi insomma sarà una realtà abbastanza complessa. E il mercato richiede sempre di più il fatto che ci siano degli operatori in grado di gestire posizioni, non solo le posizioni singole, grandi, ma quelle, appunto, granulari, che descrive anche prima Francesco Guarniera, e probabilmente anche quello che c'è un po' nel mezzo, no? Perché appunto il mondo è abbastanza variegato. In quest'ottica gli operatori, chiamiamoli servicer asset manager, dovranno comunque dotarsi di strumenti, da una parte per lavorare su quell'early detection, appunto ripetendo qualche concetto che è stato già dato prima, sapendo che la storia degli ultimi due anni, anche quindi della pandemia, segna un cambiamento rispetto a quelli che potevano essere gli andamenti dei default prima, perché ci sono settori che sono stati stravolti dalla pandemia e altri che magari anzi quasi hanno beneficiato, quindi usare dati storici di quello garante 2019 può essere poco significativo, quindi ragionare su concetti di early warning diverso, ragionare sulle clasterizzazioni, perché il tempo è fondamentale, l'abbiamo detto, sentito dire da tutti quanti, cioè è già importante negli NPL, figuriamoci negli UTP, per cui riuscire a clasterizzare e vedere dove intervenire in maniera accelerata rispetto a quelle posizioni che sono comunque già stabilizzate, perché tante volte negli UTP ci sono comunque posizioni tutto sommato già in qualche modo stabilizzate, che vanno gestite e manutenute, ma è una cosa diversa e là dove devi intervenire con urgenza. Parlavi di PNRR, allora, adesso è un argomento molto all'ordine del giorno, però c'è un elemento, sicuramente una buona parte delle risorse è destinate alla pubblica amministrazione, ma malcontate i 50 miliardi sono per il mondo del privato e quindi è una fetta comunque importante. Di questi ci sono dei light motive, che sono la trasformazione in ottica sostenibile digitale, oltre che l'aiutare quei settori che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, penso al mondo dell'hospitality, per esempio, cioè su quello sono stati anche già stanziati dei fondi. Allora, riuscire anche a veicolare, che sia l'asset manager, il gestore, a volte con la collaborazione della banca, quando parlavamo di cinghia di trasmissione delle banche per i fondi pubblici sul privato, quindi riuscire come società che a un momento comunque di difficoltà, ma ha un sottostante industriale comunque esistente, riuscire magari anche ad accedere a quei fondi per aiutarlo nella trasformazione, perché ci sono alcuni settori che devono necessariamente affrontare dei processi trasformativi, quindi a prescindere da situazioni specifiche, ci sono proprio dei settori che trasversalmente dovranno cambiare. Ci sono business models che vanno ripensati, ma c'è possibilità di accesso, vedete che si sta creando un canale per questo tipo di aziende? Si sta creando anche se c'è bisogno di, ritorno alla parola competenza, per riuscire a guidare queste aziende nell'accedere a questi fondi, quindi ci sono società specializzate, ci sono banche che si stanno attrezzando, però è sicuramente un'opportunità che non va trascurata. Abbiamo parlato di aziende, Antonella, Negri-Clementi, voi insomma entriamo un po' nel dettaglio del processo di ristrutturazione, che tempi e modalità ci sono per uscirne, qual è un po' il processo, se si può parlare di processo sufficientemente standard? Grazie, mi rendo conto che sono anche un po' diversa rispetto al resto della platea, perché ho sempre lavorato in azienda, quindi porto la visione delle aziende e prevalentemente da aziende di medie e medie grandi dimensioni, non le grandissime, non i piccoli, quindi mi posiziono lì negli UTP Corporate, facciamo anche un osservatorio su questo, e le aziende arrivano fino ai 250, adesso abbiamo seguito aziende fino ai 500 milioni, dai 20 ai 500 milioni, tanto per dire di cosa parlo. Ecco, noi siamo stati chiamati negli anni passati a fare attività, diciamo, come tanti altri consulenti advisor di IBR sui piani, di altri e quindi di controllo della tenuta del piano sottostante alla manovra, e quello che abbiamo detto già allora e che poi abbiamo implementato e che penso che bisogna ritornare a sottolineare oggi, e che anche con piani buoni, fatti da ottime firm, con manovre sostenibili non particolarmente fantasiose, perché nel tempo tutti abbiamo imparato che cosa vuol dire, però il vero tema è stare vicino all'azienda mentre esegue il piano, cioè l'attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione del piano, perché soprattutto se parliamo di UTP parliamo di aziende corporate vive, come diceva prima Bossi, l'azienda va avanti con un mercato che cambia, con tecnologie che cambiano, con necessità di fare investimenti ma non ha soldi, con risorse umane che se ne vanno, perché se è un UTP con una certa così annata, un po' vintage, le persone migliori, i manager migliori se ne vanno, e quindi il tema è riuscire a controllare l'esecuzione del piano che nel frattempo si è modificato, inevitabilmente perché tutto il resto intorno si è modificato, ma tenere fermo l'uscita e dell'azienda dalla ristrutturazione. L'attenzione deve essere sull'azienda, è l'impresa che è importante in questo momento, i detentori di interesse e gli stakeholder ne hanno un beneficio tutti, dalle banche agli imprenditori evidentemente, anche tutti gli altri stakeholder a partire dal lavoro, dalla forza lavoro, che è presente, se l'azienda si rimette, cioè si ristruttura, si rende più efficiente, si rimette in carreggiata e riparte. Questo tema qui in prospettiva lo vedo particolarmente critico, perché da un'analisi fatta così, diciamo al nostro interno, abbiamo un po' ribaltato le logiche di lettura dei risultati del nostro osservatorio PMI, che porta su 60.000 azienda da vedere quel panorama da 20 a 250 milioni, e abbiamo notato che in questi due anni in realtà le aziende hanno migliorato la PFN, sicuramente sì, però hanno aumentato l'indebitamento e ci sono aziende più liquide, perché molte hanno tirato, fra virgolette, è stato utile il decreto liquidità per molte di loro, anzi alcune di loro che abbiamo seguito sono anche uscite dall'accordo di ristrutturazione, ristrutturando il debito e mettendosi in bonus, è venuto fuori su tutti i giornali, noi eravamo croo di Maschio Gaspardo, era una realtà importante che è cresciuta poi, è cresciuta in questo periodo e che è riuscita a ritornare in bonus proprio per il decreto liquidità. Però dall'altra parte non hanno fatto investimenti, tendenzialmente abbiamo visto ridotto la montare dei CAPEX notevolmente ridotto, oggi si trovano a gestire un mondo ovviamente abbiamo detto diverso, ma oggi aumento il costo delle materie prime, aumento dell'energia, scarsità delle materie prime, aumento dei costi della logistica, minori margini, minore EBITDA, minore investimenti e a questo punto la liquidità che è stata data, a mio parere, sta portando una futura, per ritornare al tema, non è uno tsunami, è proprio una tempesta perfetta, perché se noi togliamo il discorso finanziario e ragioniamo sull'economia reale, come dobbiamo fare sugli UTP corporate, questo è il tema. Il mercato è cambiato tanto perché sono cambiati gli operatori che lo popolano, ma secondo me proprio su questo bisogna un attimino riflettere ancora di più, come diceva prima il dottor Manganelli, Vincenzo, c'è una confusione che in realtà è una eterogeneità di soggetti, quindi ciascun player che si affaccia al mondo della ristrutturazione si affaccia con una precisa strategia, questa strategia dipende essenzialmente da che tipo di ruolo questo soggetto vuole assumere, vuole seguire semplicemente il processo, vuole provare a orientarlo, vuole addirittura guidarlo, quindi comprando magari tutti i crediti e quindi andando poi a votare un eventuale processo, quindi queste tre strategie sono completamente diverse, non solo, a livello giuridico ci sono anche delle responsabilità, perché un conto è seguire un processo, aspettare passivamente, incassare dei denari, stare attenti che insomma tutto sia nel contesto di un piano, altro conto è invece mettere una finanza, mettere manager, quindi ci sono dei soggetti che istituzionalmente lo vogliono e lo possono fare, altri che invece non possono, in più c'è tutto il tema del costo del capitale, perché è chiaro che a un certo punto se i rendimenti a monte, perché nessuno, voglio dire, pochi soggetti col portafogli si affacciano a ristrutturazioni, sono sempre soggetti che gestiscono capitali altrui, quindi il rendimento da restituire ai propri stakeholder è purtroppo, per fortuna, elemento caratterizzante anche la strategia che poi viene posta in essere sul mercato di riferimento. E qui c'è forse dal nostro punto di vista, quello che vediamo noi è un po' di mismatch, nel senso che essendo l'UTP un qualcosa che va gestito con velocità, e non voglio usare una parolaccia, ma mi viene inutile continuare a provare a vendere determinate posizioni a dei soggetti che già si sa che non se ne potranno mai permettere, perché devono fare un certo error, perché non hanno un certo tipo di skills interno. Quindi quello che secondo me occorre fare un po' tutti e poi quello che è stato detto oggi è una vera clasterizzazione, una categorizzazione molto più specifica, granulare, avanzata, i sites sono fondamentali, uno a 500 mila euro non è sicuramente uno da milioni e miliardi. Ma soprattutto vedere una catena diciamo che parte proprio dal soggetto che può intervenire per andare tempestivamente a indicare al soggetto che è in grado di porre in essere un intervento decisivo appunto il target. Ecco, in questo noi vediamo ancora molta confusione, ci chiamano dei clienti e dicono mi piacerebbe molto comprare questo credito per poi fare questa cosa e noi purtroppo siamo costretti a dirgli che non si può fare perché magari non hanno neanche un soggetto che è in grado di acquistare un credito e medio tempo servirebbe una definizione chiara dei ruoli grazie mille intanto ai relatori grazie a chi ci ha ascoltati spero che siano stati degli spunti interessanti grazie a tutti